I poliziotti della sezione volanti hanno segnalato alla Procura della Repubblica un 27enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma comune da sparo. Nella serata di ieri un equipaggio della Polizia di Stato, nel corso di un servizio nel territorio, ha proceduto al controllo di un'autovettura con a bordo due persone sospette. Il veicolo transitava per il centro storico cittadino in una zona frequentata da giovani che stazionavano nelle vicinanze di diversi locali. Le due persone a bordo del mezzo sono state sottoposte a perquisizione personale. In un caso, gli agenti hanno trovato e sequestrato 58 grammi di hashish nascosti negli slip. La perquisizione è stata estesa anche al domicilio dell'uomo. Qui i poliziotti hanno sequestrato altri 3 grammi di hashish e una pistola detenuta illegalmente. Proseguono intanto i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato e delle altre forze dell'ordine in diverse zone della città, anche in quelle meno frequentate e non solo nelle ore notturne. La perquisizione è stata un'autovettura con un'autovettura con un'autovettura con un'autovettura. Grazie per la visione!